GF VIP, Davide Donadei piange ascoltando la lettera madre, voglio solo che sia felice. Non mancano le sorprese nella puntata di giovedì 9 marzo del grande fratello VIP. Ed ecco che per Davide Donadei arriva un momento piuttosto emozionante. Il geffino. Infatti, ascolta una lettera scritta e letta per lui da sua madre e non riesce a trattenere le lacrime. Lo ha raccontato più volte anche in trasmissione, Davide Donadei ha un rapporto simbiotico con sua madre. La donna che lo ha aiutato a diventare l'uomo che è oggi, che gli ha permesso di realizzare i suoi sogni e cro ha cresciuto. Da sola, senza il supporto di suo marito. La donna, quindi, dedica a suo figlio delle parole di incoraggiamento. Riferendosi anche ad un periodo piuttosto intenso vissuto dal geffino dopo alcune incursioni dall'esterno. Sono orgogliosa del figlio che sei, sei stato la spalla su cui ho pianto per tanti anni e ora che sei distante mi manchi da morire. Sono io che ti chiedo un favore, divertiti e rilassati, non devi pensare a nulla. So che da fuori arrivano messaggi che ti fanno perdere la pazienza, lasciali perdere e fuoco di paglia. Io e Danilo tu vogliamo bene. Davide spiega ad Alfonso Signorini, il significato dell'intercalare un fuoco di paglia pronunciato dalla donna, cerca di essere sempre meno autocritico. Mi devo far scivolare le cose addosso, a volte sono anche troppo responsabile. Dice il geffino che aggiunge una considerazione dopo le parole che hanno provocato un'immediata commozione. Ho cercato di non far mancare nulla. A loro, ma devo ringraziare mia mamma perché 24 anni fa ha annullato la sua vita per noi. E io devo cercare di ridarle quella serenità che a lei è mancata per tanto tempo. Io ogni giorno pranzo con lei, anche se ho il ristorante, anche casa mia l'ho presa vicino la sua. Non volevo lasciarla sola, secondo me si è sentita per troppo tempo sola e non è più una sensazione che deve avere. Questa esperienza mi ha insegnato questo, stare più tempo possibile con le persone a me care. Questa esperienza mi ha insegnato questo, stare più tempo possibile con le persone a mea. Questa esperienza mi ha insegnato questo, stare più tempo possibile con le persone a mea.